. 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 trovare suo figlio, mentre gli abitanti di Puente Viejo si divideranno tra innocentisti e colpevolisti. Intanto Fe si recherà dalle guardie civili per far arrestare il padre di Vincente, credendo di mettere Magdalena al sicuro. Infine Fe sgominerà una banda ladri, sebbene la sua amica Magdalena venga colpita da un proiettile vacante, mentre Nazaria scoprirà che i banditi sono stati assicurati alla giustizia e suo figlio è stato finalmente liberato.Il segreto, puntata in Spagna il ritorno di Lucas, arriva il padre di Giulietta dalle novità sulla puntata ed è il segreto in onda in Spagna a fine dicembre e si evince che un uomo misterioso resterà molto infastidito dalla presenza di Giulietta sui giornali, tanto da decidere di raggiungere Puente Viejo. Intanto Severo e Adela crederanno che dietro la morte di Venancia ci sia lo zampino della Dark Lady, mentre Lucas sarà implicato in questa brutta vicenda. Dolores accuserà Lucas di essere d'accordo con Severo. Intanto Carmelo si rifiuterà di incontrare Saul in merito ad alcuni problemi sorti con gli operai della Montenegro, mentre Giulietta e sua nonna si affingueranno a scappare in una notte di luna a fiume. Dagli ultimi spoiler si evince che Giulietta cambierà ed è all'ultimo minuto, mentre un uomo misterioso di nome Don Ignacio giungerà a Puente Viejo.Lucas deciderà di scappare dalla Spagna, mentre Figurcio confesserà a Dolores che presto lascerà il borbo libero. Intanto Vicente tornerà più arrabbiato che mai, tanto da discutere animatamente con Nazaria.Ma ecco arrivare il colpo di scena il giovane morirà dopo aver ferito la moglie di Mauricio, mentre Giulietta avrà un brutto confronto con il nuovo arrivato. I telespettatori scopriranno che Don Ignacio non è altro che il padre di Giulietta.